Buongiorno a tutti oggi 29 gennaio siamo ritornati finalmente a fare una nostra uscita col Metal Detector stamattina sono in solitario ma non è questo che mi preoccupa dopo circa una mezz'oretta di piccoli segnali senza nulla di consistente ecco finalmente il primo segnale degno di nota un segnale non molto chiaro e ben identificato un piastrino americano e qua ecco il secondo piastrino della giornata come possiamo vedere la zona da da scavare non è molto vasta praticamente si trova tutto in 5 metri quadrati continuiamo con le nostre ricerche stamattina le sorprese non finiscono mai ecco qua una bella decorazione non mi aspettare poi di ripulirla non mi aspettare poi la zona da